Noi siamo in conferenza di prensa anche per dare un update della situazione di tempo. Nostra mira come il maltempo addirittura all'area del Caribe e nostra mira anche per la velocità aumentare. Per questo è la ruba, la ora che è entrata in Giazio Sordi e in Merdia, e qui nel Codico Corà. Chi può sperare con il Codico Corà? Il Codico Corà è un'istruzione per l'establimento non essenziale e il sostegno di Presidente che non sia in Giazio Sordi. Il sostegno di Presidente che non essenziale, per esempio la botica, supermercato, tienda di hardware, pomp di gasolino, il sostegno di Presidente che non sono esenziale e il sostegno di Presidente che non sia in Giazio Sordi per permetter ai lavorati per la vita e per fare. Per questo, ciò è un sostegno di Costello di Presidente che non è essenziale come sera, poi è bottiglia in un supermercato, in un tienda di hardware, pom di gasolino, che ora che da abri un poco più lungo, per due ore, non lo che era per non essere come. Per tre ore, transporte pubblico, da stop di corre, e sei ore di a tardi, non si vengono con un shelter in place. Shelter in place che è, come si vengono, e solamente se c'è un caso di emergencia, lo porto arriva a cammino. C'è un caso per preparare meglio per la situazione qui, per esempio, vorrei cominciare a preparare il mio caso e il mio famiglio. Vorrei cominciare, per me non rendere in pannico, per curare il mio caso, il mio famiglio, il mio mascotto è in un spazio safe, come ho avuto sufficiente acqua e comina, e avere un familiare che non c'è un caso sicuro di un buon caso. Non subicare se non ti mester, per curare per botanque di auto di gasolino, botanque di auto di gasolino, e che non informare via canale oficial. per curare tambi, se in caso con la corriente vai, non c'è un indicazione che il cellulite è il caso, ma in caso, è qui, per mettere il flashlight e per mettere il telefono a cargare, controlla se mettere un kit di promedio di auxilio nel caso, se la ventana e la porta è in un buon, qu'è tutto l'objeto con il vento per l'antarone del caso, se la è anche di gas, qu'è il bloc di apparato in un chiquito, e se butti in boto, se è di basta di acqua, metterà sacanà fuori la mano. Scolta sarà già WIPs e già bierna, e sa che non si tome decisioni che già ayer acaba mirando quando si è una fine aia scolar, non si sa congno salata già bierna, però per scolta, non si prefera tenere la scolta. Sector pubblico, già aia, un circulario cava, qu'è ta sera awe merdia gesosor, e già WIPs, sector pubblico lo ta sera. E sa qui, claro, qu'excepcion di departamento, non iof empleado, non comestertà stand-by, e sa qui, di jefe di departamento, ta stipula. Qu'conico cora, comercio tambe, non sta pidi passera, awe gesosor, pa lo qual qu'è ta tratta e servizio non no essencial, e dosor pa e servizio non essencial. Mi ha servizio co nos crisis team da parat, e tur e autoridad nan ta haciendo lo qual come se ha si, segun e plan con nos team di orcan, nos ta haia aiuto tambe di marina real co ta parte di a crisis team, e tur equipo ta clapa mobilisa. Cruz cora tambe ta parte di operativo atravesse socializacan. A bema inta, mi tautate in contacto con il primo ministro di Corsoa, il signor Pec Pizas, pa desea ai e il pueblo di Corsoa, denombre di antere pueblo di Aruba, turcos bon, co pasada di un maltempo aki, e tambe, co jazza haber di boneiro, pa desea antere pueblo di boneiro tambe, turcos bon, innan tambe, amanda e mihor deseo non pa nos aki nan Aruba. tambe a toma contacto con nos e premier di St. Marten, signora Silveira Jacobs, St. Marten, ta un isla ruman con un hopi mas experiencia con nos de aria qui, e a ofrecenos tambe cualquier aiuto, e secretario di Estado, Alexandra van Huffelen, tambe a expresare palabra na aki pa con nos.